Ciao a tutti, l'argomento di oggi riguarda quella che è forse la leggenda urbana più famosa del mondo occidentale, ma allo stesso tempo si basa anche su eventi tutt'altro che inventati. Mi ci sono imbattuto per la prima volta da bambino con uno dei miei film preferiti dell'infanzia, infatti nel 1984 su Italia 1 andava in onda in prima visione per la tv Alligator diretto da Lewis Teague. La trama era molto semplice, una famiglia americana acquista un piccolo di alligatori in un allevamento, ma il papà è contrariato e se ne libra attraverso lo sciacquone del bagno. Giunto suo malgrado nelle fogne riesce a sopravvivere nutrendosi di cadaveri di cani gettati di nascosto da una compagnia che conduce esperimenti illegali sull'ormone della crescita, raggiungendo enormi dimensioni e scatenando il panico. Solo diverso tempo dopo appresi che il film si basava su di una leggenda moderna che circolava negli Stati Uniti, leggenda così radicata, che dal 2010, ogni 9 febbraio, si celebra una pseudoricorrenza chiamata proprio giorno dell'alligatore nelle fogne. Ma la cosa interessante è che, al contrario di tante altre storie simili, in questo caso possiamo risalire con molta precisione alla genesi del mito. Tutto ha infatti avuto inizio il 9 febbraio del 1935, quando il New York Times pubblicò un articolo dal titolo alligatore trovato nelle fogne dei quartieri alti. Il giornale racconta che verso sera un gruppo di adolescenti stava spalando della neve gettandoli in un tombino dei presso del fiume Harlem, uno stretto marittimo che separa Manhattan dal Bronx. Quando il sedicenne Salvatore Condulucci, che dal bordo del tombino gettava giù la neve ammassata attorno dai suoi amici, si accorse che tre metri più in basso si intravedeva una sagoma nera che si stava muovendo. La sua sorpresa fu immensa quando si accorse che si trattava di un alligatore e in poco tempo attorno al tombino si radunarono diverse persone. Passata la paura iniziale, i ragazzi decisero di aiutare il rettile, che si dimenava tra i cumuli di ghiaccio, e si recarno in una ferramenta per acquistare del filo di ferro per appendere i vestiti. Fu poi fatto un nodo scorsoio e dopo qualche tentativo fu possibile intrappolare l'alligatore e sollevarlo fino alla strada. Qui però cominciò a divincolarsi con violenza e i ragazzi, perdendo di mano la situazione, lo uccisero a colpi di pala. Portarono poi il cadavere al negozio dove fu misurato e pesato, 57 kg per poco più di 2 metri. Divenne così una piccola attrazione locale, ma la polizia non tardò ad arrivare e il corpo fu portato all'inceleritore di Barren Island. L'ipotesi che fu formulata per spiegare la presenza dell'animale era che fosse caduto da una nave di passaggio proveniente dall'Everglades. Per evitare le acque gelide, aveva poi nuotato verso la riva e si era rifugiato nell'entrata del condotto, percorrendo altri 150 metri circa fino a giungere in prossimità del tombino. Molto probabilmente questo episodio sarebbe stato destinato a morire qui. Ma più di vent'anni dopo, nel 1959, il noto romanziere e saggista Robert Daly pubblicò The World Beneath the City, un libro interamente dedicato a storie e curiosità di quell'immenso dedalo sotterraneo che sono le fogne di New York. E un capitolo del libro fu dedicato alla loro 84enne Teddy May, definito il re delle fogne, e delle sue avventure nel sottosuolo della città. Il testo ci dice che dal 1903, data del suo primo sopralluogo, fino al 1940 l'unica mappa delle fogne di New York era quella presente nella sua testa, e per 29 anni ne fu sovrintendente. Quando venne a sapere del ritrovamento dell'alligatore da parte dei ragazzi non credette la cosa, e assieme a lui nessun altro ha detto, ma quando mandò una squadra controllare, gli fu riferito che nelle fogne gli alligatori erano parecchi. Andrò a controllare di persona e dimostrerò che non ci sono alligatori nelle mie fogne, ma qui trova molti esemplari lunghi in media 60 centimetri. Evitando le forti correnti dei grossi canali posti sotto le vie principali, si erano insinuati nei tubi più piccoli, sotto i quartieri meno importanti. May non capì come fossero arrivati e si limitò a sbarazzarsene nel giro di poche settimane con veleno per ratti e colpi di calibro 22. Molti addetti ai lavori avanzarono teorie in merito, alla fine la più gettonata prevedeva che, visto il grande successo di vendita di cui godevano in quegli anni le testugini palustri tra i bambini, il mercato si era allargato anche agli alligatori, ma al contrario delle testugini questi crescono in fretta e in piena depressione non era facile nutrirli. Così i genitori, ignorando le lamentelle dei figli, si sbarazzavano dell'incomodo utilizzando lo sciacquone del bagno. In pratica, niente più, niente meno che la trama del film Alligator. Ma quanto c'è di vero? Michael Mishione, storico del distretto di Manhattan, ha indagato sulla storia scoprendo elementi interessanti. Partendo dall'episodio del 1935, New York Times non fu l'unico quotidiano a parlarne. Lo fecero anche il New York Herald Tribune e il Brooklyn Daily Eagle. Quest'ultimo racconta anche che gli addetti all'inceneritore di Baren Island avevano tenuto qualche lembo di pelle dell'alligatore come ricordo. La notizia potrebbe quindi essere verosimile, anche perché negli anni 30 ritrovamenti di alligatori in posti inaspettati non erano affatto rari. Ad esempio nel 1932 due esemplari di un metro furono trovati nel Bronx River e nel 1937 un esemplare di quasi un metro e mezzo fu catturato nell'Est River dal capitano di una chiatta. Poco dopo un altro alligatore lungo sui 60 centimetri fu catturato dalla polizia in una stazione della metro di Brooklyn. La possibilità che questi animali fossero stati abbandonati da qualcuno non è affatto remota. Negli anni 30 infatti su molte riviste esplose la moda degli annunci riguardanti i gadget più disparati, tra cui figuravano anche baby alligatori che per 1,5 dollari venivano spediti per posta all'interno di piccole scatole. So che sembra assurdo, ma all'epoca negli Stati Uniti era legale farlo. E lo è anche oggi. Esistono persino articoli di giornale che parlano di piccoli alligatori fuggiti all'interno degli uffici postali. Ma un alligatore non rimane piccolo per sempre, ed ecco che, come riporta un articolo del 1937 pubblicato dal The Eagle, Catherine Fitzgerald del Queens dovette ricorrere alla società americana per la prevenzione della crudeltà verso gli animali quando il suo animaletto divenne più grande della vasca da bagno. Non è quindi così assurdo ipotizzare che ci siano stati altri proprietari che invece se ne sbarazzarono quando ancora avevano dimensioni gestibili, lasciandoli in prossimità di fiumi o in altri luoghi. Ma dall'accertare questo, a ritenere che le fogne di New York possano ospitare popolazioni di questi animali, il passo non è affatto breve. Va poi ricordato che in realtà Teddy May, anche se aveva davvero lavorato in qualità di operaio, non fu mai sovrintendente e familiari e colleghi erano concordi nel dire che era famoso per raccontare storie fantasiose. Comunque con il tempo la leggenda si è arricchita di altri dettagli, dei quali però non sono stati in grado di risalire alla genesi. Ad esempio per via della mancanza di luce, i discendenti dei primi alligatori delle fogne sarebbero diventati albini, mentre secondo altre versioni raggiungerebbero enormi dimensioni. Prima di proseguire facciamo una velocissima presentazione. Esistono due specie di alligatori, quello cinese e quello americano, protagonista di questo video, che vive nella parte sud orientale degli Stati Uniti e a nord del Messico. Assieme ai cocodrilli propriamente detti, caimani e gaviali, gli alligatori appartengono all'ordine crocodiglia. Come accade per tanti altri animali, anche per loro esistono casi, davvero estremamente rari, sia di albinismo che di leucismo, ma è davvero improbabile che un alligatore bianco possa essere stato abbandonato. Infatti, proprio per via della loro rarità, esemplari di questo tipo possiedono un valore di mercato tale per cui un allevatore o un privato non se ne sbarazzerebbe tanto facilmente. Stando poi alle dimensioni enormi, che secondo alcune versioni della storia possono raggiungere gli alligatori delle fogne, bisogna ricordare che, a dispetto di quanto generalmente si pensa, oggi esistono prove molto concrete che suggeriscono che i rappresentanti dell'ordine crocodiglia non sono animali a crescita indefinita. Non continuano, cioè, a crescere, anche se di pochissimo, per tutto il corso della loro vita. Ma fino a quanto può crescere un alligatore? Ora vi mostro un video che ha avuto un grande successo su internet nel 2020, quello di un grosso esemplare che passeggia in un campo da golf della Florida. Facciamo un gioco e provate a stimarne la lunghezza. Se state seguendo la premiere del video e siete in chat, scrivete la risposta in tempo reale. Mentre ci pensate, vi dico che la lunghezza massima mai segnalata per un alligatore è di ben 5 metri e 84 centimetri e risale a una pubblicazione del 1935, ma non è mai stata ritenuta plausibile dagli esperti. L'esemplare più grande misurato con certezza fu catturato il 16 agosto del 2014 presso l'Alabama River ed era lungo 4,5 metri per 458 kg di peso. Studi recenti che tengono conto della curva di accrescimento della specie fissano inoltre una dimensione teorica massima inferiore ai 5 metri. E per la cronaca, l'esemplare del video fu stimato dagli esperti tra i 3 e 3 metri e mezzo di lunghezza. Riassumendo, la leggenda degli alligatori nelle fogne nasce da ritrovamenti reali di alligatori in posti strani, ma le fogne delle metropoli americane non rappresentano un habitat nel quale questi animali si sono stabiliti. Eppure a volte la realtà, anche se proprio non supera la fantasia, le si può avvicinare molto. Nel 1993, tre giovani viaggiatori francesi, durante una visita nella regione di Tagant, Mauritania, osservarono dei coccodrilli. La segnalazione fu interessante perché si sapeva che il sud-est della Mauritania ospitava in passato popolazioni relitte di coccodrilli del Nilo. Questo perché, come ricordo nel video del serpente gigante del Bagrada, che metto in scheda, fino a non troppo tempo fa il Sahara non era il deserto che conosciamo, ma una zona rigogliosa. La cosa sorprendente è che all'epoca della segnalazione la specie era stata osservata l'ultima volta 70 anni prima e ufficialmente dichiarata estinta a livello locale. Due spedizioni scientifiche effettuate nel 1998 e 1999 per indagare ulteriormente confermarono la sopravvivenza dei coccodrilli del Nilo, di cui furono scoperte micropopolazioni in quattro diverse tipologie di ambienti umidi, tra cui le gelta. Gelta è un termine arabo che indica specchi d'acqua isolati tra le rocce, che generalmente si trovano a monte di strette vallate. Possono avere carattere temporaneo, stagionale o permanente, possedere un emissario o essere limitati in una conca. Uno dei motivi per cui i coccodrilli sono riusciti a sopravvivere in un ambiente tanto estremo è la grande adattabilità della specie. La loro dieta in queste zone include pesci, uccelli, rane e persino locuste. Inoltre, e qui la cosa si fa interessante, la popolazione umana della zona non considera questi animali come una minaccia e non da loro la caccia. Non sono stati mai documentati attacchi alle persone e le donne e i bambini si recano senza problemi a lavare gli abiti e a nuotare dove sono presenti questi coccodrilli. E qui si apre una finestra molto importante sull'etnozologia, perché secondo gli antichi testi egizi, i coccodrilli del Nilo erano di due differenti tipologie, quelli grandi e aggressivi e quelli piccoli e mansueti. E la scienza ha di recente confermato la correttezza di questo sapere millenario. Nel 1807 il naturalista francese Geoffroy Saint-Hilaire aveva descritto una sottospecie di coccodrillo del Nilo con il nome di Crocodilus niloticus sucus, ma questa classificazione non fu mai presa in considerazione e cadde in sinonimia con Crocodilus niloticus. Quasi 200 anni dopo, nel 2003, si è poi scoperto che i coccodrilli del Nilo orientali e occidentali erano geneticamente distinti e nel 2011 uno studio più approfondito confermò le precedenti scoperte, affermando che le specie di coccodrillo del Nilo sono due, il Crocodilus niloticus e il Crocodilus sucus. La cosa straordinaria è che in questo studio, oltre a campioni provenienti da esemplari recenti, fu sequenziato anche il DNA antico di oltre 50 mummie egizie di coccodrilli risalenti a 2000 anni fa. Ebbene, tutte queste mummie sono compatibili con Crocodilus sucus. Per i loro rituali, gli antichi egizi utilizzavano infatti esclusivamente la specie più piccola e mansueta, cosa già perfettamente compresa da Saint-Hilaire nel 1800, quando si riferì alla sottospecie da lui descritta con il nome di coccodrillo sacro. E per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, ringrazio Enrico Zabeo che è il mio pusher di vecchi articoli del New York Times, ditemi la vostra nei commenti e se vi va seguitemi anche su Instagram e su Telegram. Ci vediamo alla prossima, ciao!